bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 9 4 1 e oggi siamo tornati nella serie delle sette col nostro more cambe signori miei i nostri gamberetti alla conquista della premiere allora prima di partire col video vi ringrazio in anticipo per il like che lascerete per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie allora signori miei noi siamo settimi in classifica noi dobbiamo far giocare qualche panchinaro che si sta lamentando un poco troppo tipo fuori fuori delve dentro sullivan che comunque non perdiamo più di tanto gli altri non toccherà nessuno a parte magari far giocare craston che comunque mi sembra un ottimo titolare e poi bo 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 non toccherà più niente va bene così gli altri vediamo se poi si lamenterà qualcun altro più la ho fatto queste due sostituzioni per mantenere un attimo buona la rosa siamo in campo contro il newport casa nostra veniamo di non far danni ragazzuoli scendiamo in campo forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti dai così 2 a 1 mamma mia sti gamberetti mi stanno a fai sartà raga mi stanno a fai sartà sti gamberetti gol di raja e tonev gol di raja e tonev il nostro regix che sostiene la serie sarà contento del gol di tonev va bene così va bene così una 2 non so quanto abbiamo vinto non me lo ricordo più quanto abbiamo vinto però abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto facciamo gli allenamenti vediamo se continuano a salire il nostro portiere mckinley sale 54 e mitchell sale 54 anche lui il nostro the rock dei poveri johnson rimane fermo a 53 non ne vuole sapere niente gli secca gli manca il wrestling gli manca il wrestling giocatore infortunato slow si è rotto per 7 giorni va bene va bene non è un problema non è un problema lo sistemeremo sistemeremo anche slow 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 siamo sempre settimi in campionato mamma mia che corta la classifica raga la classifica è cortissima allora chi è che se l'ha rotto che mi sono scordato si è rotto si è rotto si è rotto un panchinaro slow l'attaccante va bene fuori slow dentro luis vediamo se riusciamo a fare facciamo giocando ancora una volta i panchinari facciamo uscire di augurara ed entra luis così torna essere contento che lo facciamo giocare titolare scendiamo in campo per quest'altra partita ovviamente sempre simulando contro l'oldam contro l'oldam partita partito una partitella partitella tulla talla dagli amore gambe dai gamberetti dai gamberetti dai gamberetti 3 a 0 pulito pulito raga mamma mia ma sti gamberetti non guardano in faccia nessuno sono una macchina da guerra un gol di toneve doppietta di stockholm poi sono entrati haward di augurara e delev fuori late wilding e o sullivan ammonito craston 3 a 0 pulito pulito ed è seconda vittoria su due in questo in questo in questo episodio ora c'è che il cambridge united se non sbaglio e ora se siamo tornati a essere quinti con 42 punti mamma mia sale e scendi pauroso contro il cambridge ok park vorrebbe giocare park vorrebbe giocare perché in forma e noi lo manderemo in campo perché ora siamo fuori casa quindi rimettiamo completamente i titolari raga penso che diciamo ci sia stato un buon deleve pure stanco perché comunque ha giocato ottimo qui torna che non fuori craston dentro park old è un poco stanco chi può giocare un bulu un papare bulu la differenza di un punto 59 60 anche se fa tanto la differenza io poi non toccherei più niente a raga perché poi gli altri giocatori che abbiamo non sono all'altezza dei titolari gli altri sono proprio bassi 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 speriamo di far bene contro il cambridge tre vittorie su tre sarebbe tanta roba siamo fuori casa siamo fuori casa però forse riusciamo a far dai 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 gamberetti dai gamberetti dai gamberetti due a uno abbiamo perso ma porca miseria smith sbagliato il rigore smith è il nostro no smith è il loro hanno pure sbagliato il rigore ma porca miseria raga l'avevamo pareggiata e poi invece knibbs al cinquantasesimo l'ha portata in vantaggio per il cambridge non ci voleva questa sconfitta questa sconfitta non ci voleva considerando che il cambridge forse è l'ultimo in classifica noi vincendo avremmo fatto avremmo niente perché 42 e 3 avremmo fatto 45 siamo rimasti quinto in classifica siamo scesi al sesto posto park ci ringrazia per aver fatto questa bella partita purtroppo il filotto non riesce purtroppo il filotto non riesce ma non fa nulla raga non fa nulla ci rifaremo ci rifaremo ci rifaremo andiamo a parlare con park che era contento che l'abbiamo fatto giocare anche se abbiamo perso miseramente per stazionato regole così teniamo su il morale della squadra e ce ne andiamo al primo gennaio che si apre il mercato non so contro chi andiamo a giocare raga dovrebbe arrivare anche l'osservatore da lì dalla scozia vediamo se ci porta qualcuno di interessante old vuole giocare ok fermi tutti intanto andiamo a leggere le mail seconda squadra mensile giuramente l'osservatore informazioni importanti ok allora abbiamo rob young 73 e 94 questa è una bella bestiolina portalo subito a casa relay anderson 60 e 80 no angus hamilton 69 e 94 questo lo porti pure a casa high down michel 57 e 77 no e questo l'abbiamo fatto poi old vuole giocare ci penserò ma ovviamente lo manderemo in campo signori perché non possiamo fare errori lì dietro quindi old torna al posto di imbulu ed eleve fuori per rosallivan perché mi sembra un po' stanco cambiamo i nostri due attaccanti con nessuno perché sono uno più stanco dell'altro ottimo va bene così non tocchiamo nient'altro ma andiamo in campo la formazione e vediamo cosa succede vediamo se riusciamo a riprenderci subito dopo la batosta contro il cambridge siamo ospiti contro il breadford ci servirebbero i tre punti raga non so in che posizione classifica sia il breadford però ci servirebbero i tre punti come il pane 1 a 1 la pareggiata howard all'84 esero gli devo dire anche grazie praticamente è entrato non so al 55esimo è la pareggiata allora è andato in vantaggio all'ottavo con relay 1 a 1 stiamo un attimo iniziando a zoppicare stiamo un attimo iniziando a zoppicare e va bene mister anche se non abbiamo sconvinto ma che stai a dire? cioè non abbiamo vinto e sei contento ma di che stiamo a parlare? zio continua a lavorare per migliorare comunque manteniamo alto il morale della squadra prossima partita di coppa contro il Wigam Wigam è la squadra di qualche categoria superiore se non sbaglio il mercato è aperto va bene tutte se dovrebbe essere andato via io direi raga arriviamo a questa partita di coppa contro il Wigam dove andiamo a vedere i nostri giovani andiamo a vedere un attimino i nostri giovani il posto di Diagurera vuole giocare ok sistemiamo un attimino Diagurera vuole giocare andiamo a parlare con Diagurera ci penserò Diagurera che poi non si pronuncia così però va bene lo stesso a noi sta simpatico così Diagurera allora vediamo Kanon ed entra Diagurera Wilding è titolare o Sullivan si va a fare un giro per Delev Donovstock Raj Smith Park niente manteniamo loro manteniamo loro in campo io voglio andare a vedere la nostra cosa di giovani di giovani per vedere se ci sono dei giovani perché mi sembra che ci siano allora Rob Young attaccante destro 15 anni 73 94 buono Race Raid 82 88 è un 57 è un CAC di 15 anni buono Lucas Wilson 64 68 mamma mia che sei brutto 59 18 anni questo lo possiamo buttare subito fuori 64 68 cedilo ciao Logan McNeil 73 85 un CDC un CDC e per ora 55 va bene Douglas McNeill McKinley McKinley scusate 75 94 un 55 è buono Elliot Morris 64 84 potenziale per ora un 55 Alas Mitchell Michell 77 91 un 55 TS è buono Dave Johnson il nostro The Rock 67 81 ed è un 54 Aidan Aidan Nicholson esterno sinistro 79 94 un 57 e poi abbiamo Angus Hamilton difensore centrale 69 94 38 cioè è terribile bisogna allenarlo come non so che cosa Hamilton Hamilton bisogna allenarlo come non so che cosa allora ragazzoli io ho detto questo mi fermo qui alle porte della partita del terzo turno se non sbaglio sì terzo turno di FA Cup contro il Wigan che perderemo sicuro perché Wigan anzi dai giochiamocela dai 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 giochiamocela 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 così senza pensarci troppo subito 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 abbiamo il cerotto 5 a 1 mamma che batosta che batosta ecco abbiamo trovato il titolo del video di oggi che batosta mamma mia 5 a 1 è pesante va bene ragazzoli aspettate che mi rossino batosta perfetto ragazzoli siamo usciti dalla FA Cup al terzo turno penso che non si possa lamentare nessuno siamo andati abbastanza oltre i nostri piani il Wigan è una signora squadra non gli si può dire niente detto questo ragazzoli io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che è data a questa serie noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto nei prossimi giorni bella raga ciao 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 Grazie a tutti.